micra nissan 1997 garanzia ufficiale nissan tre anni 100.000 km questa è unico proprietario e ha solo 40.000 km perciò ne deve fare altri 60.000 però questa è stata fatta nel 97 guardate che spettacolo questa è una 998 1016 valvole un motore veramente meraviglioso per l'epoca è stata per parecchi anni la macchina dell'anno perché è indistruttibile è indistruttibile è del 97 guardate è ancora perfetta tenuta benissimo guardate gli interni guardate che meraviglia ok chi fosse interessato per collezionismo di nissa ne hanno fatte varie versioni anche il 1300 questo è il 998 1000 di cilindrata motore 16 valvole tech tecnologico della nissa dell'epoca è pari al nuovo come vedete la sto lavando accetto offerte accetto offerte offerte intelligenti perché è una macchina d'epoca e al suo valore 3 2 7 84 90 55 5 fatemi la vostra offerta per questa meraviglia di youtube car classic le macchine più belle che scopro per voi guardate com'è è impeccabile guardate che macchina guardate che macchina carrozzeria originale rosso wheeler vetri colorati già all'epoca super accessoriata con il tergil 1 8 dietro gomme da 13 se vi piace fatemi una bella offerta al 327 84 90 55 5 micra nissan 1997 cilindrata 1000 modello 998 micra nissan 1997 cilindrata 1000 modello 100 modello 100 modello 100 modello 100 modello